Schiacciato tra un muletto e un camion carico di casse di materiale plastico. E' rimasto ferito gravemente ieri pomeriggio nei pressi della zona industriale di Begliano, vicino a Ronchi dei Legionari, l'operaio 33enne Ellis Polato, domiciliato a Trieste e proveniente dalla provincia di Vicenza. Il grave infortunio è avvenuto alla Felis SRL in via dell'Industria, di cui lavoratore è dipendente. In circostanze ancora al vaglio della Polizia del Commissariato di Monfalcone e dei tecnici dell'Azienda Sanitaria della Medicina del Lavoro intervenuti sul posto. Il giovane è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Ha riportato uno schiacciamento toracico addominale. Era cosciente durante i soccorsi e, per quanto provato, è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari. La prognosi è riservata, ma secondo quanto riferito non correrebbe pericolo di vita. Il muletto è stato posto sotto sequestro. Non sono state chiarite le cause dell'incidente, che ha visto il giovane operaio restare incastrato tra il muletto e la sponda del mezzo pesante durante le operazioni di scarico dello stesso. L'unico testimone sarebbe il titolare dell'azienda, che è già stato interrogato per la ricostruzione dell'episodio.